Buongiorno amici miei bellissimi, con voi sempre Olga e vi auguro salute, amore, gioia e felicità per sempre. E ora, questo giorno, vi voglio dare grandi auguri per la buona Pasqua e buona Pasquetta. In questo momento non fa niente come non facciamo picnico, come abbiamo fatto sempre al mare, in pinetta. Vabbè, questa volta facciamo picnico a casa. Qualcuno c'è la piccola giardinetta e sono proprio felicitissimi. Possono fare anche barbecchia dentro di giardinetta. Noi abbiamo soltanto balcone, però siamo feliciti e contente anche questa. Facciamo piccolo barbecchia anche sul balcone. E basta avere bel salute ragazzi, perché tra un pop passa anche questa coronaviru. Se siamo a casa passa più veloce. E andiamo come al solito al mare, facciamo una bella posiggata. Prendiamo un bel caffè con amici, con cari. Ora, vi auguro come voi siete non soli. Basta avere qualche compagnia a casa. Anche se voi avete una bella famiglia, questa meravigliosa, questa meglio. Però, anche se una donna ha un compagnio, un marito a casa, è perfetta. E se anche un uomo ha una compagnia a casa, basta se non siete soli ragazzi. Vi auguro un grande amore. Un grande amore con la famiglia, con tutti i vostri parenti. Chiamate più possibili. Perché ora abbiamo tantissimo tempo. Tantissimo tempo perché siamo a casa, non andiamo a lavorare. Per questo chiamate tutti quanti. Parlate di più. Perché ora c'è un sacco di internet. Vogliete parlare. Non guardate tanti filmati e tanti questi YouTube. Parlate più con i vostri parenti, con i vostri amici. Perché questa anima come noi possiamo dare a tutti noi. Vi auguro voi buona Pasqua, buona Pasquetta. E speriamo come il nostro Dio aiuta più. Perché oggi, ieri, notte andate al cielo. E ora dal cielo può aiutare ancora di più. Di dietro di me, guardate, c'è una chiesa moderna, grigia. E noi sentiamo sempre le messe, diciamo, a volare all'anima, al fuori. Perché fanno belle campanile così festive. E siamo belli e contenti. Godiamoci queste giornate bellissime di primavera. E siamo a casa. Più siamo a casa, più passa di più. Più presto possibile questo coronavirus. Ragazzi, vi auguro bella vita come abbiamo avuto prima. Perché ora siamo più apprezzati. Questo come abbiamo avuto prima. Soltanto una bella passeggiata al mare. Una bella passeggiata, sola passeggiata. In pineta. Proprio così. Semplici cose come ora apprezziamo molto di più. Vi auguro saluti, felicità, amore. Vi baci, vi abracci. Buona Pasqua e buona Pasquetta. Con voi sempre Olga.